lui ora vuole fare e è un po' di impostamento indietro ok pam ora qui se il calcio fosse forte probabilmente lui è costretto a spostarci in là da qui questo per gli amici tum pam pam ok quindi io creo su pam lo deve andare indietro pam come se so tira il calcio tira il calcio in te un po' voluto dalla persona per poter far correre gli esercizi 1 è troppo anticipato fare troppo fino altezza oltre anche spostamento pam tum pam io ora andò a cercare un po' la distanza giusta quando viene altro circolare altro pam 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 ciò qui questo è di terra ok vediamo qui pam pam si però così pam troppo in giù pam guardo pam e calcio uno e due non è girato questo ci sa bene perché è girato se l'avessi fatto con questa se l'avessi fatto con questa no con questa metto iniziamo per avanti ancora pam pum scambio 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 si 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 pam tum pam pam e fare questo lui tira e io li vuoi così non devo andare così ancora uno due tira devo cercare il profilio qui qui stringo bum da qui pam e va al bacio vento ecco il profilio uno due tira e io come può nemmeno da questo si bum e troppo quello che posso pam vedi qua qui sotto 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 tira e va a passare il braccio e c'è capito pam pum ok ancora tira 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 questo come dicevo non c'è eh vedi quante applicazioni ok si ma non ci va a pensare è importante che la piacere sulla parte dentro di dove succede non esiste la piacere capito proviamo proviamo